come ti chiami? mi chiamo io gli amici di youtube voglio che tu li saluti i tu, i tu racconti di qualche storia? che mi racconta? che cosa li spacchi tu alle persone? io non ne spacco niente ho già l'acquare colorato e dici qualcosa dici qualcosa di qualcosa l'agente nast solo c'è il loro non ho i cioti 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 io oggi ho i cioti Grazie.